Assisi ha celebrato i cinque anni dall'istituzione del Santuario della Spogliazione, nato come profezia di una società più giusta e solidale, ricordando il gesto di Francesco di rinunzia ai beni. Lo ha fatto con una serie di appuntamenti, iniziati venerdì 20 maggio e culminati domenica 22, con la messa preseduta dal Cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento. Sabato una particolare attenzione ha avuto la riapertura dell'antica porta di accesso del Vescovado, quella dove 800 anni fa il poverello entrò prima di spogliarsi davanti al Vescovo Guido. Per l'occasione anche il Papa ha mandato un suo messaggio. Abbiamo riscoperto l'antico Vescovado, ha scritto il Santo Padre. Francesco è entrato come il giovane più ricco, uno dei più ricchi di Assisi, e ne è uscito povero, spogliato di tutto. Crediamo, dice il Papa, sia importante che queste pietre tornino a parlare. Erano state coperte e le abbiamo dissepolte. Presenti per l'occasione, Elvira Cagliano, sovrintendente archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, che ha seguito l'operazione di ritrovamento, e l'architetto Alfio Barabani, che ha individuato quest'antica apertura, il primo a barcarla da quando fu chiusa. I dati oggettivi architettonici scoperti sono talmente evidenti che sono difficilmente interpretabili in modo diverso. Che questo sia l'ingresso dell'antico Episcopio del XIII secolo è assolutamente indiscutibile. Questo in particolare, come per carità a tanti altri, è stato seguito dalla soprintendenza passo passo, proprio per il grande significato, non soltanto naturalmente religioso, che è quello che immediatamente, come dire, può essere percepito, ma assolutamente per il suo interesse storico, culturale in generale, di una veramente riscoperta e di una, come dire, stratificazione che non si conosceva e che grazie al Vescovo Sorrentino, Monsignor Sorrentino, si è riusciti, come dire, a mettere in luce.